Lunedì prossimo sarà l'ultimo giorno di servizio del comandante della Polfer di Bolzano, Vincenzo Tommaseo. Una carriera lunga, quella dell'attuale comandante che dopo 41 anni di lavoro nel capoluogo, con il prossimo primo settembre si congenderà andando in pensione. Un bilancio assolutamente positivo, ricco di soddisfazioni professionali, in questi lunghissimi anni, che alla fine sono 41. Avevo 19 anni quando sono arrivato qui, quindi chiaramente non è che ho fatto tutta la mia carriera in questo ufficio alla Polfer, alla Polizia Ferroviaria, sono stato a 20 anni in questura, di cui 10 alla squadra volante, divisione anticrimine e 10 anni circa alla squadra mobile. Numerosi gli interventi e le operazioni condotte dal comandante della Polizia Ferroviaria di Bolzano, oltre una trentina gli uomini coordinati da Vincenzo Tommaseo. Oggi assieme ai colleghi si è concesso un piccolo ed emozionante brindisi, ricordando come i tempi siano cambiati in termini di sicurezza, soprattutto se si pensa alla delicata questione profughi in Alto Adige. Procediamo ai controlli, all'identificazione, al voto segnalamento e poi nell'eventualità che non fossero in regola vengono presi i provvedimenti, diciamo, secondo le vigenti disposizioni di legge. Chiaramente c'è anche l'aspetto umanitario, perché spessissimo questi poveracci, che secondo me scappano dalla fame e dalla guerra, hanno anche bisogno materialmente di un supporto e quindi io per questo devo anche ringraziare tutti i miei collaboratori. A subentrare nel ruolo di Vincenzo Tommaseo potrebbe essere l'attuale comandante della Polfer di Merano, Marco Angeli. Il futuro di Vincenzo Tommaseo si prospetta ricco di impegni e di nuove sfide. Infatti il suo progetto è quello di creare un'associazione a sfondo solidale in grado di poter aiutare disabili anziani vittime di reati con il supporto di altri colleghi già in pensione.